Le autostrade, ecco. Qui la rivoluzione che abbiamo impostato mi è costata durissimi attacchi personali. Il sistema ha reagito con una campagna mediatica scientificamente pianificata contro la mia persona. Ma non importa. Sapevo di essere nel giusto. Lo ha scritto l'ex ministro dei trasporti del Movimento 5 Stelle, Danilo Toninelli, in un post sulla sua pagina Facebook con il quale ha salutato i cittadini. L'esponente 5 Stelle ha però sottolineato che nel frattempo abbiamo bloccato grandissima parte degli aumenti dei pedaggi per tutta la durata del mio mandato e soprattutto abbiamo dato all'autorità dei trasporti il potere di creare un nuovo sistema tariffario che dal 2020 farà anche scendere i costi al casello, costringendo i gestori privati a misurare i profitti sugli investimenti reali nella sicurezza e nella qualità del servizio reso a chi viaggia.